Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Oggi sono qui per farvi vedere una ricetta di un dolce che faccio settimanalmente. Il dolce è il budino ai semi di chia. Qua ci sono tutti gli ingredienti. Io lo chiamo budino perché è un po' la consistenza budinosa, però è un dolce diciamo al cucchiaio da mangiare in un ciotolino. Ecco, allora è molto semplice perché ha veramente pochissimi ingredienti reperibili ovviamente dappertutto, anche se i midicia si trovano adesso molto agilmente in qualsiasi supermercato. E adesso vi faccio vedere cosa serve. Allora, come prima cosa 200 grammi di bevanda vegetale. Io la chiamo bevanda vegetale perché, sì, insomma è un latte. In questo caso sto utilizzando questo qua dell'alpro alla nocciola. È molto buono, spero che funzioni molto bene. Tendenzialmente lo faccio sempre con il latte d'avena che è quello che dà meno retrogusto ed è comunque molto buono e funziona bene. Insomma, lo fa diventare con una bella consistenza. Insieme al latte ci dobbiamo mettere 50 grammi di cioccolato fondente. Cercate di sceglierlo magari non con dello zucchero, comunque con una bassa percentuale di zucchero. Adesso ne butto poco alla volta così non schizza dappertutto. Insieme a questo ci dobbiamo mettere un cucchiaio di cacao amaro. Questo è sempre il cacao che utilizziamo da ormai tanti video, quello della sbobba, del porridge. È il cacao amaro della coro. Io ci metto due di questi cucchiaini qui via. Così fanno un cucchiaio. Diamo una miscolatina, almeno per rompere qualche grumo, i più grossi. e poi dobbiamo portare il tutto sul fuoco in modo tale che si sciolga il cioccolato, insomma. Ok, adesso portiamo sul fuoco. Qua io ho già le ciotoline pronte per dove metterlo. Mettiamo abbastanza altino così facciamo un po' alla svelta. Intanto vi faccio vedere i semi di cia. Allora, i semi di cia sono questi qui. Anche questi li prendiamo alla coro. Questi sono un po' misti perché sono un po' neri e un po' bianchi. Sono piccolini piccolini e servono per gelificare. Infatti si può fare questo dolce oppure io ogni tanto faccio anche il porridge freddo e per fare il porridge freddo ci metto sempre un cucchiaio di semi di cia in modo che prenda questa consistenza un po' budinosa. Oppure potete fare anche il cia pudding che è semplicemente latte, bevanda vegetale con i semi di cia. Girate bene 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 in modo che si amalgami bene il latte con i semi di cia, poi lo mettete in frigo e il giorno dopo avete una sorta di pudding, di budino. Questa è una versione un po' più golosa ecco. Però volendo potete riutilizzare le stesse proporzioni di latte e semi di cia per farlo anche freddo come una colazione poi da abbellire e condire come meglio volete. Adesso aspettiamo che si sciolga. Oggi non abbiamo la sbob da far vedere, l'abbiamo appena mangiata. Questo è il dolce del weekend o del sabato sera o in questo caso della domenica sera perché oggi è domenica. Ah ecco cosa importante fatelo qualche ora prima perché deve avere il tempo di diventare budino. Io di solito lo faccio al mattino per la sera così sono tranquilla e sono sicura che la consistenza è quella che mi piace ecco. Non fatelo alle 11 per mangiarlo all'una ecco perché rimane un po' ancora troppo molle e mi raccomando non abbondate troppo di semi di cia. Tenete la dose che ho dato perché più abbondate più da in realtà non è che dà aiuta molto a gelificare, dà più quasi un retrogusto di olio, di unto se ne mettete troppi. Quindi tenete questa dose qua e mi raccomando fatelo un po' in anticipo. Potete farlo anche al mattino per il pranzo, lo fate alle 8 per l'una ci sta anche. Però se avete tempo fatelo prima che è meglio. Allora adesso sembra che il cioccolato si sia quasi sciolto. Diamo ancora un minutino, l'abbassiamo un po' perché non è che deve bollire il latte, la bevanda. Ah e queste appunto sono le dosi per due budini, non mi ricordo se l'avevo detto. Allora adesso che il cioccolato si è sciolto, c'è forse qualche grumettino di cacao. Ci voleva una frustina che ho, ma non ho tirato fuori. Va bene. Allora adesso che lo lasciamo un po' basso, ci mettiamo, ci aggiungiamo i semi di chia. Sono tre cucchiai rasi, insomma non pieni. Io faccio così sempre. Uno, due, tre. E mescoliamo in modo da incorporare tutti i semi di chia nel composto. Possiamo anche spegnerlo il fuoco dopo. Tenetelo, non tenetelo altissimo dopo. Una volta che si è sciolto tutto potete anche abbassare o spegnere che va bene. Ok, adesso semplicemente travasate cercando di fare parti uguali il composto nelle due ciotoline. Andiamo, vediamo di più a luca. Ok, adesso questi semi di chia sul cucchiaio ovviamente ce li rimettiamo giù. Ok. Allora, fatto questo dobbiamo avere cura di mettere i budini nel piano più basso del frigorifero perché è quello più freddo. Io li metto qua. Così magari dopo ci mettiamo sotto qualcosa che qua pende un po'. Comunque nel piano più basso è meglio perché si gelatinizzano meglio. Ci vedremo poi stasera con il risultato. Adesso vi rifaccio vedere la ricetta. C'è un cane. Vi faremo vedere stasera il risultato di questa ricetta e come a noi piace mangiarlo. Ecco, è molto buono così però con un tocco in più è ancora più buono. Ci vediamo allora più tardi. A dopo. Ciao a tutti. Siamo tornati. È cena. Abbiamo finito di mangiare e adesso dobbiamo comporre il nostro dolce che abbiamo fatto a pranzo. Stamattina, scusate. Volevo farvi vedere la consistenza. Vedete che non scivola, no? Una rettifica. Io ho fatto il dolce stamattina che erano verso le 7 del mattino per mangiarlo stasera che ormai sono le 8 di sera. Ho fatto un'aggiunta. Oggi per la decorazione ho fatto cuocere appena appena in una padella con un pochettino di cannella, scorza di limone e succo di limone, una mela, una melina piccola che è una varietà... no, aiutami. È la varietà? Mela? Non mi ricordo. Dai, la mela abbondanza. Ecco, che sono molto buone anche così da crude però per dargli un twist l'ho fatta così. E poi, come decorazione finale, noi ci mettiamo sempre un cucchiaio di burro d'arachidi. Questa è la versione crunchy che ci piace sempre molto. Di solito lo mangiamo sempre solo col burro d'arachidi, però stasera per fare il video ho detto risulta buono anche con la mela. Allora, cominciamo dalla mela. Facciamo una divisione più o meno equa. Dovrebbe essere qualcosa di estetico ma non è mai estetico. E' un po' sulla sbobbandante. Non è stracotta come mela, eh. Perché secondo me ci sta anche bene perché è una mela che è bella dolce. Non ho usato anche qua zucchero né niente, eh. Ok? E poi la cosa più importante del budino è il burro d'arachidi. Ci do una bella cucchiaiata, dai. Là. Quello è di Luca. Perché noi abbiamo le nostre tazze. Le nostre ciotole. Questo è il mio. Pugniamo. Questo qua lo prendiamo, attento, lo prendiamo, questa volta abbiamo preso dal sito della Prozis. Di solito lo prendiamo dal sito della Coro, ma bene o male sono uguali. Sono anche uguali proprio anche i barattoli, praticamente. E niente, questo è il risultato finale. Volevo farvi vedere magari un po' la consistenza, anche a costo un po' di rovinarlo. Vedete, non è duro, duro, duro. E' un cremosino che secondo me è molto godurioso, secondo me come dolce. E niente, spero di avervi dato un'idea per un dolce comunque molto buono, ma comunque molto sano, perché alla fine di gran zuccheri non ce ne sono, a parte quello della frutta. E poi è velocissimo da fare e stupirà i vostri ospiti. Grazie ancora per aver visto questo video e noi adesso ci pappiamo il budino. Ciao! Grazie!